Nella tarda mattinata di ieri, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei furti di auto, i carabinieri di Andri hanno tratto in arresto tre noti pregiudicati andriesi di 38, 35 e 24 anni. I militari nel corso di un servizio perlustrativo in zona Santa Maria dei Miracoli hanno effettuato il controllo di un'autovettura proveniente da Contrada Torricciola, con a bordo tre noti soggetti con precedenti specifici nei furti e riciclaggio di auto rubate. La presenza dei tre in zona ha insospettito non poco i militari che perlustrando la zona hanno rinvenuto all'interno di un uliveto un'autovettura risultata rubata nella vicina Corato, completamente smontata. I tre malviventi infatti sono tornati sul posto a bordo di un furgone per recuperare i pezzi del veicolo che erano stati accuratamente accantonati. Immediato a questo punto l'intervento dei carabinieri che hanno tratto in arresto i tre pregiudicati con l'accusa di riciclaggio e tradotti presso la casa circondariale di Trani. Le successive perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro alcune centraline decodificate per autovetture, tre ricetrasmittenti e numerosi arnesi atti allo scasso.